Ciao a tutti amici nero-azzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Facciamo una pausa stamattina da tutti i discorsi che riguardano gli infortuni, zang, cerbi, magari parliamo un pochino dell'Inter del futuro, per come si sta disegnando, per come si sta attrezzando per l'anno prossimo. Ovviamente sono discorsi che non riguardano zang, che non riguardano il futuro, con calma. Ragazzi ho letto un po' di vostri commenti, alcuni secondo me molto intelligenti, altri che non avevano nessun tipo di senso, scusate se ve lo dico, però parlare di Interfallita, parlare di Acerbi, che tanto se la caverà perché è la Marotta League. Cioè ragazzi, io alle volte mi chiedo se quando scrivete cose del genere, poi le rileggete, nel senso che alcune cose proprio nei commenti della situazione non hanno senso logico, non è una questione di opinioni, perché poi uno può avere un'opinione, uno può ti fare una squadra piuttosto che l'altra, essere più arrabbiato con una squadra piuttosto che l'altra, vabbè ci sta, lo posso capire già di più. Ma ci sono delle cose che proprio non hanno logica, proprio a livello di situazione, a livello di come funzionano le regole, a livello di senso, però. Cioè parlare di Acerbi che se la caverà perché Gravina ha Inciuci con Marotta, ma quando scrivete queste cose qua, cioè ci pensate, perché se pensate grave. L'altra cosa clamorosa era sul fallimento, ma l'Inter nel momento in cui Zangen non ripiana, non lo so, magari lo sapete e scrivete i commenti del genere giusto per fare un po' i fenomeni sulla tastiera, però sarebbe comunque preoccupante perché fareste comunque la figura di chi non conosce le cose ed è un modo educato per dire quello che penso, anzi un modo educato per dire quello che penso, potrei dirlo in maniera un po' peggiore. Ragazzi, l'Inter se Zang non ripiana il debito, non fallisce. Cioè è un debito di Zang che ha messo in impegno l'Inter a OCTRI. L'Inter non ha la possibilità di fallire. Zang ha un debito con OCTRI che se non viene ripagato entro maggio, il 20 di maggio, OCTRI non estende un altro prestito, non fa un altro prestito con un interesse maggiore. Se Zang non risolve il debito, se non paga il debito, OCTRI si prende l'Inter e poi cercherà un acquirente. Poi magari si può dire che OCTRI darà alla dirigenza dell'Inter dei paletti per il mercato. Non che l'Inter fino ad oggi da parte di Zang e da parte dell'UEFA perché nessuno si ricorda che c'è un fair play finanziario e tutte queste cose qua a bilancio sono sotto osservazione dell'UEFA eccetera eccetera. Quindi ci sono quei paletti già, ma nessuno... Zang ha già dato dei paletti in questi anni all'Inter e alla società. Non è che l'Inter spendeva 100 milioni a mercato. Ha fatto dei mercati in cui non ha potuto spendere, in cui ha dovuto vendere senza spendere. Adesso negli ultimi anni qualcosina è migliorato e ricordiamo che il bilancio sempre in passivo, bilancio non debito, OCTRI bilancio della società Inter. Quindi spese introiti della società Inter che non c'entrano col debito che è di Zang. È sempre andato a migliorare. Quindi per chi dice l'Inter ha 80 milioni di debiti. Verissimo, ha 80 milioni di debiti. L'anno prima ne aveva 140. Vuol dire che l'Inter nell'ultimo anno ha guadagnato 60 milioni da 140 a 80. L'anno prima erano ancora superiori i debiti abbassati, abbassando il monte in gaggi, vendendo dei giocatori, prendendo i soldi dalle competizioni. Io, cioè, ragazzi, voglio dire, un minimo, un minimo. Comunque, vabbè. Detto questo io voglio parlare dell'Inter del futuro in questo senso. Ieri ha giocato l'Under 21 e ha segnato Casadei, tra l'altro un ex interista che l'Inter era venduto al Chelsea per 20 milioni quando a Casadei giocava ancora in primavera. Poi Casadei si è palleggiato tra Chelsea e prestito nella Championship per fare le ossa e ha segnato contro la Lettonia. Ieri però, ieri sera, ha segnato anche Giovanni Fabian. Allora, Casadei non è più, tra virgolette, un discorso che riguarda l'Inter, un problema che riguarda l'Inter perché l'Inter lo aveva, ma aveva un progetto su di lui, ma è arrivata un'offerta rinunciabile in un momento in cui non si poteva rinunciare ai soldi e Casadei è andato al Chelsea per 20 milioni. Il discorso di Fabian è completamente diverso. Fabian ora è del Bologna, ma l'Inter può riscattarlo non quest'estate 2024, ma l'estate 2025 per 12 milioni di euro, prezzo già fissato. Quindi non c'è un'offerta da 80 milioni, 60 milioni, 50 milioni che tenga se l'Inter al Bologna, se l'Inter se lo vuole riportare a casa, basta che nell'estate del 2025 spenda 12 milioni di euro da dare al Bologna per riportarsi indietro Fabian, cosa che ad oggi è molto più che probabile. Perché è molto più che probabile? Fabian è un giocatore molto giovane, ma che in questi due anni ha dimostrato di avere una continuità pazzesca. L'anno scorso, in Serie B, con Inzaghi in panchina, nella Reggina, Fabian segna 8 gol. Giocatore molto giovane, che all'inizio forse non era neanche considerato possibile potesse giocare titolare tante partite. Si impone, segna un gol e dicono un caso, segna due gol e dicono un caso, dal terzo, quarto e quinto, poi è diventato una continuità e arriva a 8 gol in campionato in Serie B. Questa continuità in Serie B gli fa guadagnare la promozione in Serie A con il Bologna, nel senso che il Bologna vede le performance di Fabian in Serie B e decide di chiedere all'Inter di prenderlo. L'Inter glielo cede con questa ricompra di 12 milioni del 2025. Fabian non è un titolare fisso al Bologna, almeno all'inizio non gioca, poi piano piano comincia a imporsi e adesso è un cotitolare nel Bologna che comunque ha ancora tantissimi giocatori forti. Quindi non è neanche facile giocare in questo Bologna. Bologna che è quarto in classifica, che è in lotta aperta per qualificarsi in Champions League, ad oggi sarebbe qualificato. Ricordiamo che ad oggi l'Italia porterebbe cinque squadre in Champions League e quindi addirittura il Bologna potrebbe permettersi di perdere ancora una posizione da qua a fine anno e qualificarsi lo stesso in Champions League. Parliamo di giocatori molto forti come Zerzee, come Orsolini, come Ferguson, come Posh, come Calafiori, ma lo stesso Skorupski in porta. Stiamo parlando, poi c'è Saliamecker, sta venendo fuori Urbanski. Insomma quando parliamo di Froiler che arriva dall'Atalanta e si è ancora in posto, stiamo parlando di una squadra di alto livello il Bologna. Fabian si sta imponendo in una squadra di alto livello con un allenatore che pretende sempre tantissimo non solo dei giocatori a livello di tecnica ma a livello di costruzione tattica e Fabian è uno che quando gioca garantisce tecnica, forza fisica, disciplina tattica, inserimenti e gol. Stiamo parlando di un giocatore che quest'anno in Serie A, non da titolare fisso ma che si è preso il suo spazio, adesso è un cotitolare, parliamo di un giocatore che ha segnato cinque gol quest'anno in Serie A e l'ultimo decisivo ma più di uno decisivo, inserimenti di testa, inserimenti di piedi. In area di rigore quando c'è un'azione in area di rigore e Fabian gioca, Fabian c'è. Quindi insomma stiamo parlando di un ragazzo che sta crescendo veramente molto bene, ha segnato anche ieri sera con l'Under 21 e sta avendo veramente una continuità di prestazioni, di rendimento e di gol che per un certo capisco comunque sono importanti ma non sono fondamentali soprattutto all'inizio della carriera e sta avendo una continuità assolutamente impensabile, veramente pazzesca. Io credo che Fabian ad oggi, se mettessimo Fabian oggi nel centrocampo dell'Inter avrebbe più spazio di Klassen e avrebbe più spazio di Sensi. Su Aslani non no perché Aslani è un play che è il vice Cialanoglu, Fabian non è un play, quindi diciamo che se giocherebbe il posto sarebbe il vice dei vari Mkhitaryan Barella, quindi Barella, Mkhitaryan, frattesi, Fabian. La mia sensazione è che Fabian oggi all'Inter avrebbe più spazio di Klassen e Sensi. Chiaro è che lasciarlo ancora un anno, perché poi questo è l'obbligo dell'Inter. L'Inter se lo vuole riscattare alla cifra che ha deciso di base e di partenza sul contratto per il riscatto deve aspettare il 2025. Un anno ancora al Bologna con ancora più presenze, ancora più minuti, magari ancora più gol, con magari una Champions, sicuramente una Coppa Europea, magari una Champions League da fare da protagonista nel Bologna potrebbe aiutarlo ancora di più l'anno dopo all'Inter. Ma che nel 2025 Fabian con queste prestazioni verrà inserito nella rosa dell'Inter come un giocatore importante nelle tornazioni, questo io sono strassicuro. Quindi è giusto anche che la gente, almeno quella che mi segue, conosca sempre di più questo ragazzo. Ovviamente è facile seguire l'Inter, seguire il Milan, le rivali, la Juve, eccetera, eccetera. Quando un ragazzo però gioca, è nostro, perché ancora tra virgolette nostro, gioca in una grande squadra perché il Bologna quest'anno è una grande squadra e ha questa continuità di prestazioni e sottoporta è anche un uomo decisivo, insomma penso che sia giusto anche sottolinearlo, farlo conoscere sempre di più rispetto a quello che già si conosce e far capire che un giocatore come Fabian ci servirebbe molto nella rosa interista, è italiano, è cresciuto nel settore giovanile, troverebbe una colonia di italiani abbastanza importante all'Inter che sta costruendo la base di questo spogliatoio e quindi credo che sia sulla strada giusta per diventare un giocatore importante nel futuro dell'Inter. Va bene ragazzi, ditemi cosa ne pensate di Fabian qua nei commenti, ditemi insomma se lo vedreste bene anche oggi all'Inter, io lo vedrei molto bene, poi nel pomeriggio vedremo un po' le novità che arriveranno su Acerbi, insomma cercheremo di capire le novità che arrivano anche dall'infermeria, quanto De Vrij potrà stare fuori o dovrà stare fuori, insomma cerchiamo di dare un po' di aggiornamento rispetto a quello che sta succedendo intorno all'Inter anche sul discorso Zhang. Io intanto vi ricordo di schiacciare la campanella se volete la notifica dei video, il pollice in su se vi è piaciuto questo video, poi mi raccomando iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter e basta ragazzi, ci vediamo più tardi nel pomeriggio. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter!